Compassione, intelligenza, ironia, due campioni Chioccioli, soprannome, Coppino Bennati, Benna o Pantera Cinque ore, nove primi, ventitré secondi Attenzione ai distacchi che Chioccioli, leader della classifica, saprà insliggere Bennati ancora, Ushava ed è Bennati! Narrano il grande ciclismo dalle amarezze Purtroppo ho trovato una giornata brutta che è il Gavia La Parigi Tour del 2007 su Zabel E ho perso per mezza ruota Alle straordinarie vittorie Questo è dell'anno 91 quando ho vinto il Giro Credo che sia la maglia più importante Alzare le braccia e vedere sullo sfondo l'arco di trionfo è veramente qualcosa di unico Svelando aneddoti Ero solo, ero solo, l'ammiraglia non c'era, non c'era nessuno che mi poteva dare una mano Io svito il canotto, lo tiro via, lo metto in valigia Curiosità Il cibo più pesante che hai mangiato in corsa? Tonne e cipolline L'ho fregata dal direttore sportivo Non sogno corrido di notte Inediti retroscena Il Giro d'Italia l'ho vinto con questa bicicletta Pinarello Ma io usavo 52-42 Questa è la bici con cui ho vinto sui campi Elisi C'è ancora il numero attaccato Che rapporto avevi in quella volata? 53-11 E poi all'indomani, dopo gli eroi della polvere dell'ultimo Giro d'Italia La nostra montagna, l'Alpe di Poti, lancia nuovamente la sfida ai ciclisti Ore 9, partenza, crono scalata, l'ardita Abbiamo pensato di valorizzare chi il ciclismo l'ha fatto veramente ad alti livelli E ovviamente Chioccioli E quindi abbiamo scelto lui, insieme a Bennati, per essere il patron dell'evento Beh, Bici in Fiera, sicuramente è bello andarci Devo dire grazie perché mi sento veramente orgoglioso Di far parte di questa bellissima idea, iniziativa Sarò presente alla partenza della crono scalata Grazie